Un caro saluto a tutte e a tutti. Come al solito siamo all'appuntamento del venerdì che è l'approfondimento. Questa settimana abbiamo un altro ospite di eccezione che vi voglio presentare, potrei dire anche un caro amico, il professor Domenico De Masi. Benvenuto alla nostra trasmissione, grazie per la disponibilità. Allora, in poche parole, il professor De Masi, ci dicono le cronache, è nato in Molise, è cresciuto in campagna in Umbria, si è dedicato tutta la vita allo studio e all'insegnamento. Ha viaggiato molto, ha insegnato a Milano, Sassari, Napoli e Roma. Si è occupato in particolare dei temi sociali e dei temi del lavoro. In Brasile, leggo, ha avuto la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro, ha tenuto conferenze in quasi tutte le città del mondo. Poi una curiosità che riguarda sempre il Brasile, qui c'è scritto titolo di commendatore dell'Ordine del Rio Branco, conferito dal Presidente della Repubblica e medaglia al merito Anita Garibaldi, conferita dal governatore dello Stato di Santa Caterina. Quindi tu sei, ci diamo del tu, particolarmente fiero mi pare di questa onorificenza. Certo, particolarmente perché Anita Garibaldi è stato un personaggio strepitoso, appena conosciuto il grande eroe italiano che lì era andato a combattere per dividere la parte sud del Brasile dal Brasile, mentre poi in Italia ha combattuto per unire la parte sud alla parte nord. se ne immaghi, scappò con lui e da quel momento ha avuto cinque figli, eccetera, ed è vissuta sempre a fianco a Garibaldi combattendo. Lei era molto esperta in balistica, quindi usava i cannoni durante le battaglie garibaldine e poi morta purtroppo in modo terribile perché dopo la Repubblica Romana scapparono lei e Giuseppe Garibaldi e lei era incinta di cinque mesi, ma scapparono a piedi, praticamente fecero a piedi fino a Ravenna dove lei poi morì. Nelle paluri mi pare, così si dice. Purtroppo addirittura seppellita rapidamente perché stavano arrivando i francesi, per cui addirittura una parte del braccio poi fu rosicchiato dai cani, una cosa terribile, però un personaggio strepitoso, di grande amore verso quest'uomo e verso le battaglie per la libertà. Devo dire che quando passo al Gianicolo, lì nel monumento c'è anche il suo corpo, nel monumento. Quindi il bello quando parli con Domenico, con Mimmo De Masi, col professore, ti racconta delle cose straordinarie, d'altri tempi, dimenticate che sarebbe bene effettivamente ricordare. Quindi una persona, come si dice, poliedrica, eclettica, con la quale fa piacere discutere. Ora noi ci siamo occupati a vario titolo dei temi del lavoro, quindi a un sociologo importante come te, tra l'altro tuo ultimo libro, Il lavoro del ventunesimo secolo, edito dai Naudi e dell'anno scorso, poi a fine, quindi praticamente all'inizio di quest'anno è uscito Il mondo e giovane ancora. Rizzoli questa volta, in qualche modo, l'uno tratta esclusivamente il tema del lavoro, l'altro allude. Ma questo lavoro, a che punto è arrivato? È un buon punto, secondo me, è un buon punto. Se noi ne tenessimo conto, sotto tutti i punti di vista, potremmo essere felici. Perché abbiamo imparato a produrre sempre di più, con sempre lavoro, meno lavoro umano, delegando sempre più una parte di questo lavoro alle macchine, le quali macchine sono state prima meccaniche, poi elettromeccaniche, ora digitali, fra poco intelligenza artificiale, quindi hanno corroso, diciamo, si sono accollate la parte peggiore del lavoro, il lavoro più faticoso, più ripetitivo, più noioso, e man mano stanno salendo. Hanno prima sostituito il lavoro brutto dell'operaio, del minatore, poi il lavoro noioso dell'impiegato, ora sta arrivando anche il momento del lavoro più intelligente. E questo che cosa fa? Da una parte ci procura beni e servizi senza l'antico lavoro gravoso, e dall'altro ci dà tempo libero, quindi ci dà la possibilità, con maggiore ricchezza prodotta, ma non con il nostro apporto, di dedicarci poi alle cose che ci piacciono di più. Il problema che si crea è il problema non più della produzione, ma della distribuzione. Cioè noi oggi produciamo una ricchezza tale, per cui potremmo essere praticamente tutti in Italia, il prodotto interno lordo pro capita è di 36.000 euro. Con 36.000 euro a testa saremo tutti felicissimi. Solo che dieci famiglie si pigliano la ricchezza di 6 milioni di persone. E qui casca l'assino. Ora, quando tu parli di un lavoro meno faticoso, questa osservazione coincide con il risultato di un'indagine che io ho condotto, la terza, sul lavoro che cambia col professor Carrieri, che è un tuo collega che tu conosci. Infatti noi abbiamo notato, dalle indagini emerge, che la cosiddetta ergonomia, cioè sollevare il lavoro dalla fatica, ha avuto con la tecnologia dei grandi progressi. Però sul versante invece negativo, questo è un versante positivo, c'è il fatto che questo lavoro è sempre più incerto e frantumato, privo di quella prospettiva che aveva caratterizzato le nostre generazioni. Anche tu rilevi questa contraddizione? Se guardo l'Italia sì, se guardo un panorama più vasto molto meno. Nel senso che noi sappiamo con precisione come evolve la tecnologia e come evolve la globalizzazione. Quindi potremmo prevenire gli aspetti negativi del progresso tecnologico e della globalizzazione. Per esempio in Germania l'hanno fatto molto meglio di noi. Man mano che si introducevano macchine nuove sostitutive del lavoro umano, man mano riducevano l'orario di lavoro. Per cui per sempre a partire dal primo gennaio di quest'anno i metallurgici tedeschi fanno 28 ore, noi siamo a 40 ore. Con un lavoro che in Germania praticamente equivale a 1.400 ore all'anno pro capite, loro riescono ad avere disoccupati soltanto per il 4%, 79% di occupati. Noi con 40 ore settimanali pari a 1.800 ore, cioè lavorando 400 ore all'anno ogni italiano più di un tedesco, abbiamo invece ovviamente il 58% di occupati e il 10% di disoccupati. Fatti 100 i laureati in Italia dopo tre anni dalla laurea solo 54 hanno trovato lavoro, in Germania 92. Quindi dipende da come si gestisce la fortuna del lavoro, la si può trasformare in sfortuna o soprattutto in divario enorme, perché in Italia il padre lavora ancora 8-10 ore al giorno e il figlio è disoccupato. Ma infatti quando tu mi parli di queste 1.400 ore tedesche e 1.800 italiane, poi io ti aggiungo che alla Volkswagen, una ricerca che feci qualche anno fa, si guadagna esattamente il doppio di quello che si guadagna alla Fiat. Nonostante questo i nostri imprenditori si lamentano, il costo del lavoro in Italia è troppo alto, ma è veramente così? Oppure il cuneo fiscale che è troppo alto e quello che si mette in tasca è troppo poco e c'è mancanza di efficienza e di produttività del lavoro? Cominciamo a fare quest'ultima cosa. In Italia un lavoratore lavora il 20% in più del collega tedesco e guadagna il 20% in meno perché produce il 20% in meno. E perché produce il 20% in meno? Non se ne parla mai del problema della produttività. Perché la produttività in Germania dipende dai datori di lavoro e dai lavoratori, perché il lavoratore è nel consiglio d'amministrazione. In Italia l'organizzazione del lavoro che presiede la produttività è totalmente in mano al datore di lavoro. Il lavoratore è escluso assolutamente dalla gestione dell'impresa. La produttività dipende dalla gestione dell'impresa e dipende in particolare da due cose. Il parco macchine, che può essere obsoleto o può essere molto nuovo ed efficiente. E l'organizzazione. L'organizzazione a sua volta dipende dalla formazione sia dell'imprenditore che del manager. Ora teniamo conto di un fatto. Tutte le grandi aziende italiane hanno avuto delle scuole di management per formare i loro manager e soprattutto per formarli in modo permanente, di anno in anno, via via che il lavoro evolveva, hanno avuto forse le più belle scuole d'Europa. Penso a Marentino della Fiat, penso a Castel Gandolfo dell'Eni, penso alla Reis Romoli della Telecom, a Nove Drate dell'IBM e così di seguito. Proprio una rete di business school strepitosa. Questa rete una decina di anni fa è stata sistematicamente smantellata. Cioè sono stati considerati i soldi spesi inutilmente, i soldi per la formazione. Per cui noi in questo momento abbiamo i manager meno formati d'Europa e gli imprenditori che ripiegano invece sui sussidi statali non fanno altro che chiedere voracemente sussidi statali mentre praticano poi teoricamente il neoliberismo. Quindi a parole sarebbero contrari allo Stato nei fatti non fanno che chiedere e anche adesso il reddito di cittadinanza riusciranno a trasformarlo in un ennesimo sussidio non per i poveri ma per i ricchi. Questa situazione naturalmente comporta una differenza fondamentale tra noi e ad esempio la Germania che va presa come punto di riferimento perché noi siamo il secondo paese industriale d'Europa e loro sono il primo paese industriale. Quindi siamo tornati all'antico quando si diceva che le imprese in Italia amano soprattutto privatizzare gli utili e socializzare le perdite perché è facile essere liberisti contro lo Stato e poi essere statalisti per chiedere protezione dallo Stato. Quindi c'è un problema anche di efficienza complessiva di sistema. Tu citavi la partecipazione dei lavoratori, la cosiddetta mitbestimmun tedesca. Quando secondo te in Italia ci sarà finalmente una legge che consente nelle grandi imprese i lavoratori di sedere in consigli di amministrazione. Secondo te servirebbe questo? Una legge servirebbe senz'altro perché riequilibrerebbe il rapporto di forza tra lavoratori e lavoratori. Quella partecipazione è a mezza strada tra il comunismo e il capitalismo. Noi siamo in totale capitalismo iper liberista perché se uno analizza per esempio le leggi fatte negli ultimi dieci anni anche dai governi di sinistra sono tutte tranquillamente firmabili anche da un ministro neoliberista a tutti gli effetti. Per avere quella legge ci vogliono due cose. Gli imprenditori illuminati perché per esempio Adriano Olivetti non sono sarebbe fatto chiedere e ci vorrebbero dei sindacati non solo forti ma anche intelligenti a loro volta. E noi abbiamo un deficit sia di imprenditori illuminati sia di sindacalisti colti. Purtroppo l'ignoranza diciamo delle regole fondamentali dell'organizzazione del lavoro che cambia è equamente distribuita tra datori di lavoro e lavoratori. Il rapporto ad esempio con l'orario di lavoro e con la necessità di combattere per ridurlo tra l'altro la riduzione dell'orario di lavoro giova alla produttività al contrario di quando possa pensare una persona sguarnita. Questa battaglia non la si fa perché i sindacati non ne capiscono l'importanza. Infatti quando si parla di riduzione dell'orario di lavoro si capisce subito se l'interlocutore è ignorante o meno. Se è ignorante fa immediatamente questa domanda. Sì ma si può ridurre l'orario di lavoro solo a patto che si riduca il salario. E lì si capisce che si tratta di una persona sguarnita che non ha capito che quando il lavoro era totalmente operaio come nella metà dell'ottocento questo poteva anche valere. Ma già allora non valeva. Ma quando il lavoro è per il 66-70% intellettuale come è ormai in Italia meno si lavora più si rende perché c'è da produrre idee non più bulloni e le idee non dipendono dalla quantità della riflessione. Del resto come ricordavi è molto importante sapere che la Germania che è un po' la nazione guida d'Europa appunto sull'orario di lavoro ha fatto dei passi avanti molto importanti. Non solo le 35 ore ma attualmente questa possibilità di accedere alle 28 ore mi pare per particolari lavori che abbiano una determinata gravosità. quindi il settore della metallurgia questo è un segnale. Ma quindi secondo te una frontiera sulla quale lavorare in Italia data anche l'attuale caratteristica della modalità di eseguire un'attività umana può puntare in che modo alla riduzione dell'orario di lavoro? Ma può sembrare strano ma io intanto mi batterei perché si lavorasse 40 ore perché c'è un'altra situazione che ci differenzia dalla Germania. Oggi praticamente non siamo più al 94% di operai su 100 come era nella Manchester industriale. Siamo a 33% circa un terzo di operai un terzo di impiegati un terzo di creativi di manager di dirigenti eccetera di professionali. Ora avere il 66% di persone che lavorano con la testa e non con le mani significa a tutti significa a tutti gli effetti che il modo di lavorare la motivazione al lavoro la stanchezza al lavoro sono completamente diversi da quelli per il lavoro operaio. Ora che cosa succede da noi e che cosa succede in Germania? Da noi i quadri, i manager, i dirigenti che ormai sono quasi la metà della forza lavoro quando finisce l'orario di lavoro immaginiamo le otto ore contrattuali restano al lavoro per una, due, tre ore senza aumento di stipendio, senza pagamento di straordinario. Come regalo affettuoso diciamo del lavoratore non ci sa chi perché spesso nelle grandi aziende non si conosce neppure chi sia l'azionista, magari sta in America o in Giappone. Il personale, certo. Quindi a questa entità, a questo iperoggetto astratto si immolano due, tre ore di lavoro al giorno sottraendole naturalmente alla famiglia, sottraendole alla società, sottraendole a se stessi. Invece in Germania alle 5 in punto si va via. A me è capitato un episodio abbastanza interessante. Il presidente della Mercedes Italia anni fa era appena stato nominato ed era venuto da Stoccarda. Nei primi giorni era in albergo mentre cercava casa e il primo giorno ha detto alla moglie aspettami alle 5, finisce verso le 5 e mezza sarò qui. E' andato in ufficio, la segretaria gli ha presentato l'agenda del giorno dove c'era una riunione alle 6. E allora ha chiesto come mai c'è un'urgenza partita? Dice no, di solito questa riunione si fa alle 6. E lui cominciò praticamente a sperimentare la situazione italiana e qualche tempo dopo lesse un articolo che io ho pubblicato, mi pare, sul Corriere della Sera in cui denunziavo questo vezzo dell'overtime italiano. Penso secondo me dovuto non al fatto che i manager italiani amano di più il lavoro e che odiano di più la famiglia, credo sia questo il motivo. E mi cominciò in una ricerca molto interessante, comparativa, per capire se i carichi di lavoro a Roma, alla Mercedes di Roma, erano più forti o meno forti dei carichi di lavoro a Stoccarda. Allora avevo due collaboratrici di madrelingua tedesca, per cui riuscimmo a fare un lavoro molto serio e venimmo invece ad appurare che i carichi di lavoro in Italia erano il 30% inferiori a quelli tedeschi, ma i manager italiani restavano al lavoro 2-3 ore in più. Ma poi sono quasi tutti maschi, escano le donne perché devono accudire i figli, diventano le aziende da una certa ora una sorta di gay pride in cui ci sono tutti maschi che si tengono compagnia a vicenda. Quindi diciamo che il professor De Masi ci dice che forse è giunto il momento di ripensare l'organizzazione del lavoro, le modalità con le quali si dà la prestazione, ma anche la cultura che dobbiamo avere del lavoro, l'efficienza nel lavoro, la capacità, come si dice, di organizzarlo meglio, diminuendo l'orario. Abbiamo però anche tanti che lavorano meno ore perché sono pagati poco, i part time, come si dice, costretti, quelli involontari, quelli che l'azienda dice c'è poco lavoro. Questo porta a delle basse retribuzioni. È un problema quello delle retribuzioni del lavoro dipendente oggi in Italia perché dalle ricerche si evince che si batte sui 1.500 euro come media ma ci sono salari anche molto, molto, molto bassi dovuti alla precarietà. Ma questo è un altro dei lavori. Essendo tutto sbilanciato, il mercato del lavoro, fa acqua un po' da tutte le parti. Intanto abbiamo detto dell'overtime, no? Di 1-2 ore al giorno in più. Bene, i miei calcoli portano a dire che quell'insieme di ore in più non retribuite praticamente distruggono non meno di 60-65.000 posti di lavoro che invece in Germania si riempirebbero con non occupati al posto di far fare straordinario non retribuito agli occupati. Ma poi c'è nel suo complesso uno sbilanciamento, diciamo, una torsione del mercato del lavoro. Intanto c'è una torsione che deriva dalla struttura scolastica del paese. Noi abbiamo in questo momento il 23% di laureati contro il 66% della California. Ora si può dire ma la California è lontana? No, la California è vicinissima perché noi ognuno in casa c'è un prodotto elettronico che è stato pensato in California e che è gestito dalla California. Quindi è come se fosse una nostra regione. Bene, avere un terzo dei laureati oggi è una cosa terribile. Si tenga conto che il ministro Baccelli, che fu un famoso ministro alla fine dell'Ottocento, si batte per avere la quinta elementare, obbligatoria, quando c'era il 70% di analfabeti. Al momento del plebiscito era il 76% di analfabeti in Italia. E lui voleva introdurre la quinta elementare. L'opposizione di destra diceva ma che ce ne faremo di tanti alfabetizzati? Perché si dava per scondato che per tante mansioni non occorreva saper leggere e scrivere. D'altra parte avere una massa che non sa leggere e scrivere significa avere una massa molto manipolabile e molto subalterna. E Baccelli rispose a questa interpellanza parlamentare che saper leggere e scrivere non serviva per il lavoro, ma serviva per la vita. Ora io credo che date le forti evoluzioni sociali, l'aumento della complessità, quello che allora era la quinta elementare oggi sarebbe la laurea. Cioè occorre una quantità di approfondimento pedagogico pari più o meno a quello che allora era la quinta elementare e che ora si può considerare di una ventina d'anni di studio che consente di gestire non solo poi il lavoro ma il tempo libero. Anche le trasformazioni. Perché il lavoro poi è un settimo della vita, non è mica tutto, è una parte minima della vita. Gli altri sei settimi significa fare il padre, fare il cittadino, quindi fare cose forse più difficili che non il lavoro. Tra l'altro tu dicevi giustamente governare la complessità. Evidente che andiamo verso una complessità crescente, ma tu come la pensi sull'avvento sempre più accelerato di queste tecnologie? Si parla di intelligenza artificiale. Sei tra coloro che dicono il positivo oppure sei sul miglior? Io sono entusiasta. Tra l'altro sono reduce da un giro adesso in otto laboratori di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. cerco di tenermi al corrente perché se voglio sapere cosa sarà il mondo, cosa sarà la mia famiglia, cosa saranno i miei nipoti fra dieci anni, non debbo più vederlo sui vocabolari, debbo andarlo a vedere in questi laboratori. E cosa ho visto? Ho visto che dopo la grande evoluzione del passaggio da elettromeccanico a digitale, stiamo passando dal digitale all'intelligenza artificiale. bisogna tenere conto che l'insieme di queste tecnologie fanno sì che il mondo in cui noi oggi viviamo non sia certamente il migliore dei mondi possibili e immaginabili, ma sia certamente il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Io credo che nessuno sceglierebbe un'altra epoca storica in cui vivere. C'è un mio amico filosofo che dice che mi sarebbe piaciuto vivere nella Firenze dei Medici, intanto perché si immagina Lorenzo il Magnifico, ma non tutti erano Lorenzo il Magnifico, e poi Lorenzo il Magnifico in buona salute, bastava avere un mal di denti per entrare in una spirale terribile in cui bisognava estirpare i denti con le tenaglie, cosa terribile. Questo è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi e lo dobbiamo prevalentemente a due blocchi di cose. Cioè da una parte la produzione umanistica che ci dà musica, che ci dà poesia, che ci dà teatro, che ci dà arte, e dall'altra le tecnologie che intanto hanno raddoppiato la nostra vita media rispetto ai nostri trisavoli. L'umanità ha impiegato un milione e mezzo di anni per raggiungere il primo miliardo, oggi siamo 7 miliardi e nel 2030 saremo 8. Ora quando si dice 8 miliardi, 7 miliardi, si pensa subito a 8 miliardi di bocche da sfamare. Io penso sempre invece che sopra ogni bocca c'è un cervello e che quindi mai si era avuto nella storia umana una massa cerebrale così immensa, così istruita e così collegata grazie a internet. Quindi noi non abbiamo mai avuto uno strumento così potente per vincere i problemi che poi restano invece sempre gli stessi. Cioè mentre i problemi restano identici a se stessi, e sono i problemi della miseria, della fame, del dolore, delle malattie, della morte, e di queste solo la morte non si è riuscita a vincere ancora, ma si è riuscita ad allontanare di molto. Bene, questi problemi, queste sfide che la natura continua, imperternita a farci, sono oggi controbattute da noi con strumenti strepitosi. Pensiamo soltanto a cos'è un mondo senza analgesici. È una cosa terribile. Oggi si può essere operati e il nostro chirurgo, mentre fruga nella nostra pancia con le mani, intanto parla con noi e noi non ci rendiamo conto di tutto questo. Ma siamo a livelli che la tecnologia ha reso finalmente vivibili. Non si riesce neppure a pensare come era tutto questo. Ma non si riesce neppure a pensare ormai a un mondo senza telefonini, figurarsi un mondo senza antibiotici. Quindi per me le nuove tecnologie sono straordinarie. Sono straordinarie anche perché si accollano il lavoro più pericoloso e noioso. Naturalmente però le tecnologie sono un ulteriore strumento o per democratizzare il benessere o per accentrarlo. Esatto. E qui sta il punto perché, come abbiamo visto, l'hai detto tu all'inizio, il benessere non è per niente distribuito, ma è concentrato. Diciamo che è evaporato verso l'alto e non piove mai su quelli che stanno in basso. In più c'è anche il rischio, se non si fa attenzione, che le tecnologie ti utilizzino anziché tu utilizzarle come strumento. Quindi c'è anche un problema di democrazia che in qualche modo dovremo indagare. Per i pochi minuti che ci restano ancora di questa piacevolissima, interessante discussione, volevo chiederti una cosa più di attualità. Ma questo reddito di cittadinanza, so che tu hai collaborato con il Movimento 5 Stelle e con alcune ricerche, spero che ti abbiano dato ascolto. Che cos'è? Come sta a funzionare? Come lo vedi? Il reddito di cittadinanza è un miracolo in ritardo. È in ritardo perché il fatto che un paese ottavo al mondo per prodotto interno lordo su 196 paesi, ottavo, si accorga solo oggi di avere 5 milioni, 6 milioni di poveri, di poveri assoluti, e non stiamo parlando di quasi poveri, di poveri assoluti, che se ne accorga solo ora è veramente indecente. Mi sono anche chiesto come mai, per esempio, tanti governi democristiani, quindi vicini, diciamo, a una visione cattolica, non si siano mai interessati di tutto questo, se non con sussidi di carattere spesso clientelare. Ma per la prima volta l'Italia ha una legge che pensa a 5 milioni di persone e prevede una cifra che, pur essendo minima, comunque consente di uscire, è come l'analfabetismo di cui parlavamo prima, consente di fare il passaggio dalla fame alla sussistenza, che è un passaggio infinito, come da 0 a 1. Naturalmente tutto questo intanto ha fatto anche un'altra cosa sul piano di prodotto collaterale, ci ha fatto parlare dei poveri, ci ha fatto capire che, per esempio, quando si tratta di trovare soldi per i poveri, chiunque, anche il presidente della CEI, anche il direttore dell'Avvenire, si chiedono ma dove troveremo? questi soldi. Cioè, in un bilancio statale di 8-900 miliardi, per trovarne 15, si dice, ma dove li troveremo? Cioè, proprio la totale disabitudine a farsi carico della parte sfortunata del Paese. Quindi, questa cosa intanto è sicura. Per la prima volta abbiamo una legge, quella precedente di Gentiloni, era stata fatta in modo affrettato, pre-elettorale, perché i... Forse era di Renzi addirittura. Oh, di Renzi. Di sicuro nel 2014 era stato presentato il progetto di legge dei Cinque Stelle. E si sapeva che questo bolliva in pentola, se ne è parlato sempre di più, e poi alla fine ha dato luogo al REI. Il reddito di inclusione. Il reddito di inclusione. Che ha anche funzionato, diciamo che... Il reddito di inclusione, secondo me, no, invece non ha funzionato affatto, perché era... Perché non ha funzionato? Allora, intanto era di 220 euro. Con 220 euro, secondo me... No, beh, c'erano meno risorse. Non ci si fa... E poi era per un milione e duecentomila poveri. In effetti è stato dato a 800 mila. C'era una serie di condizioni per averlo che era veramente scandalosa. C'era perfino avere o non avere uno yacht, diciamo. E infatti cosa è successo? Che poi non hanno controllato niente di tutto questo, perché sennò starebbero ancora a fare i controlli. Perché la realtà è questa. O si usa un reddito di cittadinanza, quello che noi in sociologia chiamiamo tale, e che non è il REI, e non è questo REI... Di cittadinanza, teoricamente per tutti. Per tutti. Che ha un motivo. Ha un motivo, perché ogni condizione che io metto debbo controllarla. Se la debbo controllare per 5 milioni di persone, ho bisogno di un apparato, tipo quello che c'è in Germania. In Germania sono 111 mila gli addetti... Dei centri per l'impiego. ...e si spendono 12 miliardi all'anno solo per mantenere i centri per l'impiego. Esatto. Allora ci si chiede, non è meglio a questo punto darlo a tutti, cari e porci? Dici, ma c'è anche il ricco. Sì, ma magari il ricco non se lo piglia neppure. E in secondo luogo, comunque, anche il costo complessivo dei ricchi che andrebbero a prendere questo reddito è sempre inferiore a quello che costa l'apparato immenso che occorre per fare tutto questo. Questo è il motivo per cui alcuni, tra cui me, vorrebbero il reddito di cittadinanza e non se ne parla più. Per un fatto semplicissimo, perché i poveri non hanno tempo. hanno tempo d'attesa. Non possono aspettare perché debbano mangiare questa sera. Il tempo del ricco è molto più lungo del tempo del povero. Però si è accettato l'altro criterio, di mettere delle condizioni. Addirittura, siccome Renzi imputava i Cinque Stelle di volere un reddito per giovani disdraiati sul divano, questa figura oscena che è stata agitata, i Cinque Stelle hanno incrementato ancora di più le condizioni che occorrono per avere questo. E quindi hanno reso ancora più complesso poi la macchina per... Comunque, a mio avviso, è ottimo il fatto che ci sia un reddito di cittadinanza. È ottimo che lo si dia. Adesso sarà complicatissimo applicarlo. L'altra cosa che è stata fatta è confondere, questo l'hanno fatti i media naturalmente, il reddito di cittadinanza con i problemi dell'occupazione. Il reddito di cittadinanza è per il povero. È povero un bambino di cinque anni che non ha da mangiare, è povero un vecchio, è povero un inabile. Infatti, quelli che dovrebbero cercare... Quelli che cercano lavoro tra i cinque milioni di poveri in Italia sono un milione e due. Tutti gli altri non hanno nulla a che fare col problema del lavoro. Il reddito di cittadinanza non è un reddito per l'impiego. Diciamo che questo collegamento forse l'ha fatto anche un pochino il governo. Io, come ho sempre detto, a differenza di molti miei colleghi del mio partito, io sono contento che ci sia la flessibilità pensionistica e quota 100. E sono anche contento che ci sia il reddito di cittadinanza. Il punto non è quello. Perché dare qualcosa a chi ha bisogno, rendere più facile l'accesso alla pensione in tarda età, soprattutto per chi fa dei lavori pesanti, credo che sia sacrosanto. E forse il modo che è criticabile, nel senso che quota 100 privilegia quelli che hanno tanti contributi. 38 anni non sono una nocciolina, le donne non ci arrivano facilmente. Infatti io sono per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, che è un altro capitolo, diciamo così, è l'allargamento del reddito di inclusione, mettendoci più soldi, e ha anche lui tutta una serie di condizioni di accesso. Un poco di meno. Le condizioni di accesso del reddito di cittadinanza attuale sono meno delle condizioni di accesso. Ci sono delle condizioni abbastanza stringenti. Il problema sarà quello dell'apparato e del controllo, perché come hai detto giustamente, in Germania abbiamo più di 100 mila, 110, 120 mila addetti ai centri, quindi abbiamo 8 mila. Poi ci saranno questi navigatori. Sì, ma questo però è, devo dire, avendo un po' anche con te, che sei stato Ministro del Lavoro, mi chiedo come mai non ci si è resi conto che avere una rete di centri per l'impiego è importante come avere una rete elettrica, una rete telefonica, una rete autostradale. Cioè questo è stranissimo, non solo che non si sia fatto, ma che lo si sia fatto in modo così abominevole. Ne ho visitati parecchi. Ora sono sicuro che sarà complicatissimo realizzare tutto questo, ma si deve pur fare. Infatti io cosa ho fatto? Ieri ho telefonato al responsabile di tutto questo, che è questo professor Parisi, che viene dagli Stati Uniti, mi sono messo a totale disposizione gratuitamente, dicendo se c'è bisogno di me, io non vado mai poi all'incasso in chiave politica. Tra l'altro distribuire assegni, che si presume a regime sanno per 5 milioni di cittadini, da parte di 8 mila impiegati, più altri 10 mila navigatori, più 10 mila dei centri per l'impiego, più 8 mila comuni, poi si crea forse un po' di impiego, ma sarà molto difficile effettuare i controlli. Abbiamo terminato il nostro tempo, professore, io ti ringrazio moltissimo per questa bella conversazione, io spero che avremo anche altre occasioni, e naturalmente un caro saluto a tutti e a tutte. e naturalmente un caro saluto a tutti e a tutte.